nooo il mega cosa sta per succedere nooo non ci credo ho 200 life points però non è finita ha 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 come lo scolto bene allora le regole le sappiamo 40 carte dobbiamo scegliere ogni carta dalle 3 che ci vengono presentate la realtà sono quelle di master duel common, rare, super e ultra le ultra sono rarissime c'è il 5% di possibilità che escano ogni volta che ti viene proposta una carta e posso essere massimo 5 in tutto il mazzo andremo su gotformat perché Danilo non conosce altre carte quindi andremo lì no ma in realtà nell'Edison io Kaius già tipo in copertina lo riconosco quindi non so non c'è solo lui ma magari questo aggiunge sai cosa serve da provare battle pack 1-3 allora iniziamo con got per riscaldamento ho perso il link per qualche strano motivo come perso il link ok l'ho ritrovato ok perfetto allora iniziamo con un bel giallone da 1.900 perché male non ci fa e signori abbiamo il nostro amico che non siamo riusciti a giocare l'altra volta vediamo se questa volta riusciamo a farlo se no avremo anche mind control sì sì mettiamo lui ovviamente speriamo di riuscire a giocarlo rega che mi fa proprio felice il cyberstein questo dava 700 di attacco non era male un altro cyberstein o tempesta potente ma tempesta potente ragazzi qua mi sembra ovviamente la scelta migliore e sono due a tre molto buone mi piacciono tutte andiamo con le magie perché ancora non ne abbiamo quindi iniziamo a macinarne di più perché quella che è la unica magia che abbiamo è tempesta potente molto forte il dado no questa cosa fa tributo due monstri aumenta life points di 1000 come fa ad essere una carta decente questa ragazzi cos'è su schifo quando questa carta combatte lancia una moneta e se ci becchi spacchi il mostro nemico ma questa è per il meme possiamo metterla e abbiamo tutto? direi di sì rega siamo on the way non ci manca niente no? 40 carte bene ragazzi siamo pronti a duellone perfetto allora il mio mazzo si chiama goat brutto penso sia ufficialmente il peggior mazzo che ho fatto da quando ho iniziato ho iniziato questa serie allora io lo chiamo goat bello così posso vantarmi di avere un bellissimo deck goat mi dispiace io penso che questo sia veramente veramente brutto vuoi già dare forfetti arrenditi già no 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 magari il tuo è peggio cioè io dico mi lamento il mio deck magari il bello del draft è questo esatto perché il mio mazzo è scarso quindi per darmi un vantaggio così lui mi regala un turno capito così la cosa è che parto con una carta cioè che si parte con la sesta in questo modo ci stiamo ricordando ancora il come dire la lista del di chi ha vinto e perso dalle vecchie partite quindi gli devo regalare un turno perché sono magnanimo sì ah guarda allora io vado sul sicuro io ti dico che ho una scusa ma allora sei proprio cioè iniziamo bene prego vabbè ecco voi la mia wind condition signori è quella la wind condition più o meno sì ah sì devo spaccarmela grazie e allora non è una di quelle mani che uno dice wow che uno dice che belle e quindi sono costretto a fare questo e guarda e questo però consentirà al tuo cannone di iniziare a caricare i tuoi proiettili e quindi non va bene però io ho tanta paura di un mobius ahia tanta paura di un mobius è la tua lost condition mobius più o meno sì quindi hai in mano almeno una carta trappola importante o una magia che tipo bloccherebbe il turno o qualcosa di simile se hai paura ho semplicemente un cannone in campo che vorrei non venisse distrutto vediamola così ho capito allora hai paura anche di tifone e di tempesta hai paura di tutto hai paura di tutto allora Ludoria vediamo un po' cosa c'è lì ma sei impazzito eh ma aspettavo qualcosa del genere sei impazzito beh diciamo che non è andata male io l'accetto no uno per uno io l'accetto io l'accetto ah è uno per uno va bene come si dice non fa male a nessuno uno per uno non fa male a nessuno setto uno e setto due può andare maresciallo almeno se c'era Mobius ora non lo puoi evocare certo l'unica cosa è questa certo certo ha senso allora io allora a questo punto io risponderò facendo questa cosa qua vediamo un attimo che cosa ci dice il cuore delle carrile allora uh allora caro Sergiani ma io sono gridici provo ma no ma sei pazzo sono pazzo vuoi davvero eh cos'è se questa carta è attaccata da un mostro se viene attaccata rimbalza in mano se viene attaccata ah va bene non si attacca ok ok e oddio aspetta fammi leggere eh questa è attaccata nel death di Sky Desire aia va bene cosa metalmorph addirittura non mi farò fregare da te tunk ti sei giocato metalmorph esatto attacco diretto con reaper scartami tempesta mobius porca che era forte però però allora intanto ottima carta complimenti molto molto bella però c'è a dire che in questo spot cosa fai se la tiri su reaper lo spacchi ma kelbeck mi rimane se prendi kelbeck poi non mi spacchi reaper quindi dai però ti becchi un tonnellaio di danni sì ma poi il tono dopo lo rimetto in difesa e prego eh esatto vabbè vediamo un attimo che forte spirit reaper che forte eeeh vabbè io io ci provo nel senso che no no non lo fare no no non lo fare sì eh devo 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 farlo Rick va bene sei pronto a vederlo sì sì tanto oh no aspetta sono un po' in giro cosa fare regalo facciamo che cazzo c'hai in mano no dai cosa c'hai eh devo pensarla bene questo devo pensare no sono 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 obbligato a farlo Rick arriva ok va bene monster gate oh gesù cosa tiri fuori adesso va bene dai peggio del serpente non potrà essere oh il cannone anche lì beh beh zumba era beh no non è non è non è male non è male però sono molto contento che il tuo cannone sia finito perché potrei avere pochi modi potrei 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 domanda metalmorph è una curiosità solo se attacca a lui ma nel game step cioè quindi non è che i feet attacks sì cioè se tu mi attacchi Kelbek non dovrebbe darmi l'attacco zumba era ok perché dice se i feet attacks quindi solo se attacca il mostro equipaggiato esatto va bene quindi sarò costretto a sacrificare un po' dei miei life points insomma ma perché sacrificare life points è una carta una carta una carta scusami life points non ne perdi più di tanto life points non ne perdo purtroppo non lo so se però sono disposto a sacrificare una carta adesso vediamo vediamo te la faccio te la faccio pensare bene questo attacco io attacco non è che ci metto tanto io attacco e basta se hai qualcosa lo tiri orca miseria eh sì la domanda adesso è cosa posso fare wow che monster che abbiamo taus e nido si attacco vai proteggi le mie carte in mano ok allora io ho tanto io ho paura che ci sia un cazzo di Mobius però cioè sparare il cannone adesso mi fa 3000 non mi serve a niente cioè il punto è questo quindi quindi non mettere niente dabbia il turno insomma dai sto pensando al da farsi dai purtroppo Reaper subirà dei dannetti ma che ci si può fare più di tanto un mostro in difesa ma se io per difendermi ci provi l'idea è quella eccolo scopriamo scopriamo se c'è sto modus dai allora intanto allora intanto facciamo così sì riprendiamo il serpente e beh certo quello prendiamo ci sta ci sta ci sta serve a quello serve a quello l'abbiamo tributato con il monster gay adesso io ok credo allora la mia potrebbe essere una mossa molto rischiosa perché io ho paura di rimanere con il terreno sguarnito hai capito questa è una paura quella che ho in questo momento diciamo che se ti ho capito hai capito hai capito ora ora ci sono probabilità che se tu il prossimo turno vabbè io ci provo ok pensavo di peggio sembra stessi per tirare non so cose ma allora va bene che si toglie adesso allora questa è un'attima domanda il prossimo turno se tu mi entri con un monarca o qualcosa del cavolo è tosta diciamo è tosta quindi la carta coperta secondo me è tipo un night assassin o qualcosa che ha flip quindi però è anche vero che se tu avessi avuto qualcosa da tributare l'avresti giocata cioè perché tenerti il reaper magari l'avresti giocata in stand by face 2 quindi secondo me non ce l'hai quindi io ti spaccherò il mostro coperto sperando che sia qualcosa che fa danno vabbè 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 che distrugge o che rompe i coglioni vabbè direi che i coglioni li rompe i coglioni di 700 danni non me ne faccio un cazzo quindi tieni ma no ma sì dai cosa ti sono 700 danni dai allora mi fa paura il cannone più che altro secondo me questo è un'occasione un po' irripetibile attenzione non vinco la partita però sei impazzito dammi il tuo mostro ma serio cioè lo stai facendo per farmi no cazzo eh ma se li conti non sono tanti ma non sono neanche pochissimi quanto è il tuo cannone eh io devo ti prego scartami il serpente ti prego scartami il serpente dunc oh è veramente però l'hai ripreso prima quindi ti viene bandito bandito quando passo ok ma in realtà va bene nel senso è meglio è meglio delle altre altre carte che avevo in mano allora chat la situazione è questa aia io io sto allora sto cannone se duro un altro turno vinco però io io lo sento dentro di me che non duro un altro turno aia aia io ho questa grossa sensazione che che non duro un altro turno e quindi la tua scelta io io questi 4.000 li porto a casa sono troppi per questi 4 questi 4.000 li porto a casa magari non c'hai niente però ti ho lasciato a mille mi hai lasciato a mille mi hai lasciato a mille sì lì potrebbe essere un cilindro o qualsiasi altra cosa quindi la vedo un po' la vedo un po' tosta vediamo un attimo che cosa pesco non ho avuto molto come dire molto gioco perché prima da come parlavi mi dava quasi l'impressione che ci avessi una tempesta potente in mano io c'ho molta paura di quello hai paura della tempesta? perché mille danni ah il mio deck è orribile mille danni riesco forse a qualche modo a cavarceli a 5.000 se mi togli il cannone non te li faccio più in nessun modo secondo me allora io di sicuro vado così perché voglio evitare che tu con l'angioletto puoi iniziare a rompermi le palle ok quindi io dato che questa qua ti evoca il light solo se viene distrutta in battaglia se io faccio così direi che il problema l'hai fatto ora siamo in una condizione ragazzi abbastanza strana vediamo cosa coperto ti prego non mi cilindrare ok non mi ha cilindrato no purtroppo non è cilindro non è cilindro e allora niente hai ancora hai un turno io non so cosa tu abbia in mano ok mi piace questo perché vuol dire che forse non puoi chiudere la partita e ciò mi garba parecchio devo dire che hai ragione non posso chiudere la partita non puoi chiudere la partita ok allora se non puoi chiudere la partita a questo punto io so che non puoi chiudere la partita per adesso per adesso per adesso non la puoi chiudere eh questa ragazzi potrebbe essere una buona cosa che possiamo fare però quei mille è un rischio ragazzi è un rischio perché se lui avesse è troppo rischioso questo e questa ragazzi è troppo rischioso no oddio oddio è rischioso devo fare è rischioso devo fare così ragazzi lo so è rischioso non posso non posso questa ragazzi non posso tirarla perché se la tiro non posso mettere bisogna aspettare un attimo bisogna temporeggiare in questi casi me la rischio ma va temporeggiata te la rischi me la rischio escolo te hai fatto bene a rischiare si no 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 eh no no il mega cosa sta per succedere non ci credo ho 200 life points però non è finita no povero stolto povero stolto no l'attacco finale no no però allora mia difesa potevo dire che non sarebbe cambiato niente anche se avessi fatto quella cosa neanche col tono in vantaggio vediamo mamma mia che brutta sta mano guarda guarda la mia è ok e dico solo questo la mia mano è ok non dico che è buona è ok comunque ragazzi non è male di carta che brutta che è proprio brutta ok un mostro in difesa e una carta coperta sì io a questo punto merda raga che schifo vabbè senti no non è peggio del mio io ovviamente le carte peggiori sì ma aspettavo qualcosa del genere infatti il più cesso che avevo io mi aspettavo un bidone del genere ok non è che me lo sia pensavo Mobius no però io faccio così vediamo ok grazie allora vediamo un attimo sì cioè facciamo così ragazzi ma vediamo un attimo tempo reggiamocela allora quei danni che mi hai sparato col cannone sono stati veramente cattivi erano tanti erano tanti tempo reggio anch'io ho fatto bene ragazzi a farlo ho fatto bene a farlo io a questo punto rega lo faccio perché secondo me è conveniente arriva eccola ah ok e ah e addirittura poi uh beh 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 dirò beh cosa sono le peggiori carte c'hai pure tempesta ma tanto c'hai solo carte forti forza esiliata cioè io non appena vedi le mie ti metti a ridere guarda che la sto giocando c'è il wall of illusion ah sì io sono messo così io ti avevo detto che il cannone è la mia win condition non c'ho nient'altro da giocare io penso mi sono uscite le peggiori carte potessero uscirmi ma scusa ma non hai win condition che non sia il cannone scusami no ah 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 c'è nightmare will che è tipo il cannone però c'è nella mia testa se non c'era di tempesta ti bloccavo il devone mega cyber e bo installavo col muro e installavi col ma queste sono le migliori carte che mi sono uscite non è che dici l'ho fatto meme apposta cioè secondo te io ho preso veramente il guariano certico riaddestrato di mia spontanea volontà secondo me lo hai fatto no le altre rampeggio non mi ricordo cos'era ma il rampeggio se ho preso quello ah guarda io accetto molto volentieri se non mi attacchi per un turno tributala pure ti regalo guarda no ma è fatto apposta questo turno cioè nel senso per evitare che ci siano problemi dopo vediamo cosa ti scatta il mio amico ok vedi che ho fatto bene l'altra è meglio vedi che ho fatto bene l'altra è meglio adesso meglio dipende dai punti di vista se questo tutti monarch beh tutti ne ho due ne ho visti due per adesso per adesso ok questa era l'altra il bazzù bambù ah io posso solo sperare che che tu non abbia un cazzo lì sotto altrimenti è ggwp questo ok dai te la sei giocata bene ah vabbè ma non è finita non è finita e va bene andiamo avanti sono ancora vivo il che è importante cuore delle carte mi faccia vincere questo match grazie non lo so non lo so Rick se questo è proprio quello che vorrei fare per vincere ma nel dubbio io faccio così vato ruda e andiamo a vedere un attimo il nostro no shadow spell addirittura è una carta molto old school ma sai che non è male questa in questo spot perché comunque cioè è tipo nightmare wheel ma peggio è un nightmare che non fa i danni esatto è tipo nightmare però mi abbassa anche l'attacco quindi sì se solo avessi un mostro per picchiare vero mamma mia che bruttura che tu c'hai però se parto primo e non peschi tempesta potente io pesco il cannone posso vincere cioè quello è il mio modo di vincere allora la carta con cui potevo attaccarti il reaper era il samurai prima ah ok quindi tu ti chiederai perché non l'hai attaccato hai distrutto perché ero un 1200 pensavo che con una forza d'attacco goblin ero in range di lethal da parte per questo che non l'ho attaccato beh avevi il 50-50 avevo il 50-50 esatto e quindi non lo so forse avrei dovuto rischiare lì avrei dovuto rischiare perché comunque anche in caso di attacco tuo avevo il 50-50 guarda chi c'è ma dai ma che due coglioni però basta cazzo allora il fatto qual è che io penso vai che qua la mia win condition si attaccare Sasuke e vincere perché se quella settata è come mi immagino che sia l'anziano magro vendicativo dopo c'è un 1200 che può picchiare se invece attacco Sasuke e lo batto dopo c'è quello lì che è un 4-50 quindi io devo vincere il 50-50 ma anche vincendo lo sclome perderei sono abbastanza scuro di questo dici quindi sì vediamo se perché comunque io scelgo testa nel dubbio un po' ma è una gioia ma è una gioia e vabbè diciamo che sono un po' sfortunato ecco in questa best of three guarda non vuoi vedere cosa c'è in mano in questo momento ma fa niente se vuoi no vabbè tranquillo non serve niente io a questo momento ti attacco con il mio Sasuke e vediamo che succede niente non succede niente non succede niente ti prendi i danni e basta sì vediamo un po' cosa ti trovi perché l'ho si fa quello che si fa prima c'è il tuo quindi vediamo ora scelgo croce dai così viene fuori testa esatto vabbè all'acchio abbiamo perso via mi arrendo è umiliante con questo deck e fare queste cose va bene va bene almeno è stato almeno potrò andare prima col deck che setta vai vai dai che triste ma poi sai cosa al di là di quello io ho trovato c'erano tutte carte inutili tra loro quindi avevo ti dico dopo cosa avevo perché non l'avevi visto a game 1 quella carta quindi te la dico dopo cosa c'avevo allora aspettiamo una carta quando ho pescato bazoo avevo in mano un'altra carta che era assolutamente in contrasto con bazoo ok eh rick passa passa che così vingo rick ti distruggo sto match madonna che mano che mano perfetta no vabbè raga posso vincerti un torneo almeno c'ho questa brutta storia allora io potrei fare così così per il vantaggio carte ma mi serve il vantaggio carte ti serve davvero il vantaggio carte cioè secondo me conviene cioè potrei fare uno e due e succede sta cosa qua mi faccio un plus però mi sembra così utile cosa te ne fai del vantaggio fare così eh aspetta fammi pensare cioè tipo questo è così inutile che piuttosto mi tengo questo in mano capito questo è veramente pattume atomico purtroppo vai pattumalo pattuma tutto via via questo per favore sì hai capito hai anche pensato scusa poi capirai ok capirò poi capirai vabbè cioè due carte che proprio erano terribili sì io play il peggio più che altro four star di ladybug non è orribile ma tu di livelli 4 nei pochi perché giochi di flip e di monarch quindi mi serve pochissimo per adesso gioco di flip e di monarch sì per adesso un mostro in difesa è tutto qui ciò che sai fare io ho solo mostre da mettere in difesa io non so se farlo per il meme e per essere no non farlo non lo faccio va bene va bene dai non lo faccio non so cosa non so cosa devi fare fai quello che credi sia meglio hai ragione faccio così ok come si dice nell'anime deve andare peggio o reno tarn doro poteva andare assolutamente peggio qua stavolta lo flippo è porco il creeper cosa c'è lì sotto via ah vedi sai cosa potevo fare perché ci ho pensato perché se io scartavo night asylant e ladybug si attiva night asylant non mi riprendevo in mano ladybug quindi c'è capito scartavo uno anziché due però è talmente orribile il guardiano celtico è addestrato che quel più uno è totalmente inutile perché è una carta inutile quindi piuttosto preferisco tenere il mano a night asylant era riaddestrato cioè nel senso dovrebbe essere migliore di quello standard invece sanka quello standard è giallo quindi sì esatto però 1002 ok ok va bene ragazzi avete visto che ho fatto bene a non farlo Rick sei pronto a vedere la tua il turno il turno più brutto che tu abbia mai visto eh la madonna eh fidati ma non può essere più brutto di quelli di prima brutto intendo dire di quelli proprio che ti ricordi sei pronto vai andiamo evoco il megacyber il megacyber sì poi evoco lui ok vado così sì e adesso signori ci godiamo lui mamma mia BrewEyes Artemis Dragon guarda che quello spazio io non c'è vabbè va bene va bene non mostri in più vabbè eh ti piace eh quell'Aradis molto bello ora ti mostro una cosa mi schianto il Cyberstein sul Sangam penso ah pensa perché te lo vuoi schiantare per subire meno danni dopo? non lo so forse non lo so nemmeno io ci devo pensare qua perché se io faccio sta cosa no però dopo mi prendo no va bene schiantatelo pure ok grazie e io faccio così tu non fai proprio niente nooo questo te lo lochiamo subito nooo questo te lo lochiamo subito nooo nooo quello lo mettiamo a sedere nooo raga quello lo mettiamo a sedere nooo oddio nooo tonk quella vaccola c'ho solo due turni no raga pensiamo perché lui c'ha Tempesta potente e Tempesta può essere un grosso problema Tempesta può essere un grosso problema ragazzi non va sottovalutato aia aia sono troppo lì ragazzi chi lo sa lo vedremo al prossimo turno faccio così non posso rischiare Tempesta potente cosa però cosa voglio spaccare perché se non ha Tempesta quello non attacca e se ce l'ho preferisco spaccare lui per sicuro ah preferisco fare così ok ok eh ah vediamo se ce l'hai oppure no nooo spero per te che tu ce l'abbia spero per te che tu ce l'abbia sta Tempesta ti prego cuore delle carte cuore delle carte cuore delle carte aiutami c'è Tempesta oh va bene spero che sia Mobius per te eh no e invece no e invece no e invece no dai e niente raga è andata male è andata fin troppo male va bene prenderò il mostro più più forte del mio mazzo sei riuscito a vincere con un cos'è niente è un 2000 di difesa non fa niente quel cazzo di cannone comunque rompe i maroni a livelli di verosimili comunque vuoi farti vuoi farti una risata prima ah me la faccio sì prima guarda non vinco neanche col cannone ti voglio disrespectare ma cosa hai imbarazzato ecco qua vuoi farti una risata prima quando ho settato la nightmare wheel avevo in mano cilindro magico e ho deciso qualità 6332 ti potevo fare cilindro sul 4500 no tu hai fatto cyberstein blind così mentre avevo carte settate se avessi settato cilindro era 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 cinita ma infatti volevo vedere che cosa sarebbe successo era per il meme dai questo era per il meme ci stiamo